Manca ormai poco per la celebrazione dei riti della Settimana Santa Licata e anche quest'anno ritorna l'appuntamento tanto atteso con la mostra iconografica Passio Domini, organizzata dalla Proloco Cittadina. La mostra, attraverso un percorso di immagini, foto e santini d'epoca, anticipa la celebrazione dei riti pasquali e si svolgerà all'interno del Chiostro San Francesco, dove si potranno ammirare immagini suggestive della Settimana Santa, i cui riti e le processioni sono particolarmente sentiti e partecipati dalla popolazione. Noi come Proloco ogni anno prima della Settimana Santa organizziamo questa mostra iconografica di foto e santini d'epoca, anche ci saranno statuine e altro materiale inerente alla Settimana Santa, proprio per iniziare già a introdurre il clima e l'ambiente della Settimana Santa. Quest'anno si è voluto istituire anche un concorso scolastico, la Mia Settimana Santa, riservato alle scuole medie, su come i ragazzi vivono e in che modo partecipano a questo particolare e sentito periodo dell'anno. Quest'anno abbiamo ideato questo concorso proprio per dare la possibilità ai ragazzi il modo come loro vivono e se sentono veramente la Settimana Santa, che sappiamo è molto ricca di significato, anche di atteggiamenti particolari che si vivono durante questa Settimana Santa. Quindi tramite questo concorso i ragazzi hanno elaborato diversi temi, diversi racconti, anche materiale così artigianale oppure anche dei disegni, proprio come loro vivono questa Settimana Santa. Ci saranno anche dei premi? Sì, abbiamo istituito anche dei premi, metteremo prima di tutto gli elaborati in mostra, proprio sabato inizieremo la mostra e quindi verranno esposti tutti i lavori dei ragazzi oltre i nostri pannelli. A fine mostra poi premieremo gli elaborati migliori. La mostra sarà aperta dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 21 con la possibilità di essere accompagnati da parte dei soci della Proloco per l'illustrazione dei pannelli espositivi.